Trono over, la frase di Domenico contro Anna Maria diventa un tormentone Uomini e donne Trono over, Domenico contro Anna Maria, la frase che spopola sul web. Nella nuova puntata del Trono over abbiamo avuto modo di conoscere più approfonditamente uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile. Domenico ha catturato l'attenzione di tutti a causa dei voti dati alle dame che hanno deciso di mettersi alla prova sfilando sulla passerella. Il simpatico signore è stato davvero intransigente, soprattutto con le donne un po' più grandi di età. Ovviamente, le votazioni dell'uomo hanno fatto sì che si accendessero svariate polemiche e discussioni nello studio di uomini e donne. La prima ad intervenire è stata la stessa Maria De Filippi, per poi passare all'esuberante reazione di Tina Cipollari. Domenico sembra però non aver fatto alcun passo indietro nei confronti delle dame a cui ha dato un voto davvero molto basso. Di fronte all'atteggiamento del cavaliere, il web si è scatenato con alcuni divertentissimi post. In un battibaleno, l'uomo è divenuto una vera e propria star. Trono over, Domenico attratto dalle donne giovani? Il pubblico pazzo del cavaliere. Domenico ha dato voti altissimi alle donne più giovani, che hanno sfoggiato un outfit anche un bel po' sensuale e perché no provocante. I voti più bassi li ha invece riservati per le signore più grandi, come Anna Maria ed Emi. Proprio con la prima che è stato un dibattito che ha scatenato il pubblico nel vero senso della parola. Maria ha chiesto al cavaliere del trono over il motivo di tale voto e lui è stato piuttosto chiaro, ormai è una caldaia vecchia. Di fronte alle parole dell'uomo, sui social è stato scritto di tutto. Oltre a quelli che non hanno apprezzato l'esternazione di Domenico, c'è che si è fatto una grande risate. Il signor Domenico è una rivelazione, mi sta facendo morire, mi sento male, Domenico ti amo, Domenico ci darà grande soddisfazioni. Domenico, nuova star del trono over di uomini e donne. Oltre alle parole usate contro Anna Maria, il signore del parterre maschile di uomini e donne ha anche invitato Anna a mangiare di più perché troppo magra. Sul web si è ironizzato anche su questo. Moltissime telespettatrici hanno infatti rivelato di desiderare al loro fianco un uomo che le dica di mangiare. E' ingrassare. .